Nuova settimana, nuovo arrivo dal mercato, primo contatto con il campo questa mattina per i tesserati della Fidelis che hanno inaugurato il ritiro di San Giovanni Rotondo. I biancazzurri di Luigi Panarelli lavoreranno nella città di San Pio sino al 2 settembre. Lo spirito è positivo e si nota anche dai comportamenti, dalle situazioni in giro, dall'aria che si respira. Per ora, diciamo che come dicevo prima, siamo sulla buona strada, però il cammino è molto lungo e secondo me sarà anche insidioso perché è un campionato importante, difficile, dove affronteremo squadre competitive. Noi dobbiamo solo recitare la nostra parte, una squadra che possa rendere la vita difficile a qualsiasi squadra. Cioè vogliamo cercare di soffrire il meno possibile e cercare di toglierci qualche soddisfazione. Una liberazione, ritorno al lavoro dopo oltre 5 mesi di stop forzato, lavora già da diverse settimane sul fronte mercato invece il mio direttore sportivo Riccardo Di Bari che ha aggiunto una nuova pedina al pacchetto arretrato dell'Andria. Si tratta di Francesco Fontana, centrale di 29 anni che arriva dal biegno trascorso Alpicerno. Prima ha vinto da protagonista la Serie D con i Lucani collezionando ben 31 presenze, poi si è ritagliato uno spazio importante anche tra i professionisti scendendo in campo 23 volte. Per lui sarà la prima esperienza in Puglia. Ma è Francesco Fontana, un calciatore che si presenta da solo, ha un passato nei campionati dilettanti dove ha disputato campionati importanti, ha vinto anche un campionato, è sempre stato artefice principale in qualsiasi squadra che ha giocato. Un giocatore silenzioso che non parla però fa i fatti e questo è quello che cerchiamo un po' su tutti i calciatori. Io credo che il calcio è questo, c'è poco da parlare ma soprattutto cercare di fare i fatti. Io credo che Francesco è uno di questi, siamo contenti che fa parte del nostro gruppo, l'abbiamo voluto fortemente nella nostra famiglia Fidelis. È un giocatore che abbina sia la forza fisica, anche una buona qualità tecnica, è un calciatore molto d'utile nella linea difensiva. Di Bari continuerà anche nei prossimi giorni a sondare il mercato per completare la rosa. Riflettori puntati soprattutto sul comparto portieri in ritiro al momento ci sono due 2001. Matteo Segantini già ad Andrea nella passata stagione e Dario Anatrella che ha avuto l'autorizzazione dalla Paganese, società proprietaria del suo cartellino, ad allenarsi con la Fidelis. Il suo eventuale tesseramento verrà valutato dallo staff tecnico.